Questo è quel che rimane della croce di Padre Pio, praticamente nulla, completamente bruciata dalle fiamme. Poco più anche quel che resta del tabernacolo fatto di sassi, lumini e fiori. Ci troviamo alle porte di Arezzo, all'incrocio tra via di Castelsecco e via Rossi Mattei, proprio sotto il parco archeologico. Qui qualcuno, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, ha dato fuoco alla croce. Le fiamme sono poi arrivate anche al di là della rete di recinzione. Completamente arza la croce, come del resto quanto lasciato dai fedeli ai suoi piedi, Rosari ma anche Santini di Padre Pio. Non sarebbe la prima volta che accade un episodio simile. Immediatamente è stata allertata la polizia municipale di Arezzo, già intervenuta sul posto. Si tratterebbe, secondo gli agenti, di un atto vandalico. Proseguono comunque le indagini per risalire ai responsabili.